Blitz dei carabinieri del Napoletano. I militari dell'arma hanno fermato un 58enne di fratta maggiore per detenzione di droga ai fini di spaccio. La perquisizione dell'abitazione ha consentito agli uomini della sezione di Caivano di scoprire sei piante di cannabis e decine di grammi di hashish e marijuana. Il malvivente, ora ai domiciliari, rimane in attesa di giudizio. Altri controlli sono stati effettuati tra Casoria e Fragola, dove è stata sospesa l'attività di un bar per la vendita di cibi non tracciati e sono state identificate 600 persone. Censiti anche 340 veicoli. Tra questi risultano 18 sequestri e 49 sanzioni al codice della strada. Arrestati inoltre alcuni ragazzi in possesso di cocaina, crack e alcuni armi bianche, tra cui un coltellino, un tirapugno e uno sfollaggente. Ulteriori irregolarità sono state infine individuate all'esterno di un'abitazione, dove l'installazione di un sistema di videosorveglianza non a norma veniva utilizzato per il traffico di stupefacenti.